Alvarez arriva alla Roma, il grande rimpianto della tua carriera? Sì, la prima partita me la sono persa, adesso abbiamo questa qua in casa, quindi cercheremo di dare il nostro contributo e speriamo che le cose vadano di un modo diverso come sono andate all'andata. Che esperienza è stata per te quella romana? Un'esperienza bellissima perché era il secondo anno qua in Italia, per me formare parte di una squadra come la Roma è stata una cosa bellissima, quindi è un ricordo che non dimenticherò mai, purtroppo ce l'ho come avversario per sabato, però devo cercare di fare il mio lavoro e cercare di fare bene per il bar. Per tutti a Roma eri al Varetto, qual è il ricordo e soprattutto il tuo rapporto con Francesco Totti? Un bellissimo rapporto, una persona molto semplice, anche quando ero là in Hondura non mi sembrava, ma poi quando me lo sono trovato a Roma ho visto che ero una persona dolcissima, molto scherzoso, come gli altri che sono delle verissime persone anche. Ti senti dargli un messaggio di quei tre gol che hai rifilato nella gara di andata? Speriamo che non faccia tre qua perché sarà dura dopo, no? No, noi dobbiamo stare attenti, sicuramente la partita qua sarà diversa da quella là a Roma, quindi il messaggio che le posso inviare è che non sarà come l'andata. Ti tornerà di fronte il norvegese Riese? Ti toccherà anche limitare le incursioni del terzino romanista, no? Sì, lui sta attraversando un buon momento, quindi si deve stare attenti a una fase difensiva perché lui ha questo corso importante, ha questo tiro e è un giocatore di qualità, quindi è una partita che va giocata dall'inizio alla fine. In Roma ci sono tutti di qualità, quindi sarà una partita difficile, dobbiamo dare il 100% dall'inizio della partita alla fine. Noi facciamo il nostro lavoro per cercare di fermare tutti questi campioni e sicuramente all'ora di essere lì in campo metteremo la nostra cognoscenza per cercare di fermarli. Sarà bello se ci sono tutte quelle persone lì, non influisce in niente perché alla fine siamo noi quelli che giochiamo, siamo in campo e è ancora più bello. Io ho detto sempre che più tifosi ci sono, più bello è, quindi sarà una cosa bellissima, speriamo di riuscirci a cercare di fare la partita e fare un'ottima gara. Le scarpette gialle ormai non le cambi più? Fra un po' sì perché stanno andando già, si stanno aprendo qualche buco, però riuscirò a cercare altre gialle, lo stesso colore sempre. Grazie. Grazie. Grazie.